Buongiorno a tutti, sono Mariluise Swist, del dirente del turismo danese di Sardegna, sono associata con i dettagli e sono vista da sera per fare questo evento a Roma. Noi come cremente di turismo facciamo sia le azioni del suo intercultore, il suo trade, abbiamo il nostro newsletter che mandiamo tutti, tutta la rete trade e poi abbiamo 3 alleggenti con prezzi veramente convenienti per andare alloggiare a Kopenhagen e poi con i pacchetti size lavorevoli per andare a conoscere i nostri distribuzioni. Grazie per avermi ascoltato e buongiorno, 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 grazie.